Radio Flash e Livorno Magazine.it presentano Innamorarsi di Livorno Livorno e il suo porto di Alessandro Brunetti Settima puntata Su progetto di Bernardo Bontalenti si cominciano anche i lavori della fortezza nuova per la difesa della città dal lato terra. La struttura ha 5 baluardi, un perimetro di circa 2 miglia, i fossi larghi 60 braccia, circa 36 metri e profondi 5 braccia, circa 3 metri. La costruzione dei fossi inizia nel 1599. L'acqua è di mare ed è necessario pulirla spesso perché si riempie di alghe e altro materiale. Si cerca di fare in modo che non ristagni ma circoli liberamente, evitando così il pericolo di putrefazione. È un buon progetto dal punto di vista idraulico, frutto di un architetto, il Bontalenti, che sa il fatto suo. È merito di Cosimo II dei Medici, succeduto a Ferdinando I, l'aver dato a Livorno il suo porto. La città, sia pure integrata dai nuovi magazzini, lazzaretti, opere militari, resterà per quasi due secoli quella che Cosimo II ha costruito. Le case commerciali straniere, che devono costituire la base dei traffici livornesi, hanno appena cominciato ad accorgersi delle condizioni favorevoli che il Livorno, modesto scalo commerciale ma piazza forte e marittima di primo ordine, può offrire. Il Granduca delibera quindi il disegno di un nuovo porto. Il progetto si basa su tre punti, che si sviluppano intorno alla necessità di avere un porto ampio e ben riparato, mantenere isolata da terra la fortezza vecchia, evitare l'inconveniente delle alghe. Gli esecutori Cantagallina, Cucurrano, Busulli, Lorini, Dudley, riuniti in un consiglio, propongono di gettare una nuova e grandiosa diga, partente dalla Sassaia e parallela al terra in direzione nord-ovest. Questo molo dovrà estendersi sopra una superficie di 613.000 braccia quadrate, avanzare in mare aperto per circa 900 braccia, sì da ricevere le navi di grande tonnellaggio. Sopra il livello del mare dovrà innalzarsi per altre 9 braccia. Il progetto riduce in tal modo i fondali nei quali dovrà fare la gettata in mare aperto, diminuendo lo sviluppo complessivo delle opere, forse anche ovviando all'azione delle correnti, che potrebbero accumulare forti quantitativi di alghe contro il molo. È vero che lo specchio d'acqua chiuso fra la terra e i due moli venne così ridotto alla metà circa di quello previsto nel progetto precedente, ma è vero anche che lo sviluppo delle banchine rimane pressoché lo stesso. Conta appunto lo sviluppo delle banchine a disposizione delle navi, unito alla tranquillità delle acque, alla facilità d'ingresso, al costo degli impianti e della manutenzione. Potete riascoltare questa puntata in on demand su www.livornomagazine.it e nella sezione FlashTube di www.radioflash.info